in diretta da sanremo con noi riccardo sinigallia ciao riccardo senti la tua canzone è bellissima ci racconti un po come è nata e chi o cosa te l'ha ispirata guarda è nata in tempo abbastanza lungo perché l'ho scritta insieme a filippo gatti che è un cantatore che amo tantissimo con cui collaboro spesso e lui mi aveva mandato un foglio in cui c'erano scritte alcune delle parole della canzone però era diciamo aveva un altro titolo era un po diverso e mi ha detto facci quello che vuoi questo è per te io ho letto queste frasi ne ho prese alcune di queste e ci ho scritto sopra un ritornello però poi a distanza di qualche mese questo ritornello che avevo fatto non mi piaceva molto quindi ne ho scritto un altro dopo due anni ho fatto questo mix tra le strofe che lui aveva scritto che poi abbiamo un po cambiato insieme e questo ritornello ed è venuta fuori questa canzone tu hai già partecipato a sanremo in passato e oggi che differenza c'è beh la differenza fondamentale che vengo a mio nome col mio nome col mio cognome a rappresentare una canzone che ho scritto mentre nel passato di solito facevo un po da supporto agli artisti con cui collaboravo e questo cambia tutti i livelli da quello emotivo a quello professionale insomma è un sanremo speciale per me un sanremo speciale è un po una rigenerazione per citare la tua seconda canzone comunque molto bella ma non scelta è stato sofferto per te o puntavi proprio sulla prima no io puntavo su prima di andare via la prima sì e quindi sono stato molto contento della scelta adesso non so se del pubblico o della pubblico sala stampa no no li ringrazio perché sono felice di continuare e proseguire il festival con quella venerdì serata di duetti tu hai esagerato perché non siete in due sul quel palco no saremo in quattro perché ci sarà laura arzili la mia compagna bassista che avete visto ieri marina reia la batteria e paola turci la chitarra elettrica insieme canteremo tutti e quattro una canzone di claudio lolli qui sono molto affezionato perché l'ho scoperta con luca carboni quando abbiamo fatto musiche ribelli insieme ho approfittato di questa occasione per portare la canzone di un grande maestro che alcuni del grande pubblico non conoscono bene hai avuto modo di ascoltare le altre canzoni del festival di sanremo e che idea ti sei fatto beh un'idea molto positiva perché mi sembra che quest'anno si sia fatta una selezione basata più sulle canzoni che sui cantanti e questa per me è una buona notizia nel senso che la televisione per carità è giusto che vada avanti e viaggi sui numeri sugli ascolti e quindi sui personaggi che procurano ascolti però il festival della canzone italiana potrebbe essere una piccola eccezione riequilibrare e anche tutelare un po' il patrimonio della canzone italiana che è importante altrimenti talent fra vent'anni cosa canteranno un'osservazione interessante quanto sarebbe importante la vittoria finale sabato per riccardo sinigallia ci punti no no insieme per me a parte che non credo proprio di rientrare nel pacchetto del podio per ovvi motivi ma per me la vittoria è essere presente al festival questo fatto mi ha già cambiato abbastanza la vita tra l'altro per la musica che piace a me i referenti del passato sono sempre arrivati ultimi o penultimi quindi io mi auguro di arrivare intorno a quelle posizioni allora ti diciamo in bocca al lupo e sai tu perché crepi il lupo ciao a tutti